il futuro arriva in un attimo e nessuno può sapere cosa accadrà abbiamo dovuto cambiare abbiamo dovuto ascoltare fermarci e cambiare le nostre abitudini e lo abbiamo fatto ognuno a suo modo l'unica speranza è che tutto questo ci serva per imparare qualcosa il monologo di vanessa incontrada ai ragazzi di amici 19 non è solo un incoraggiamento a credere nelle proprie potenzialità ma anche un invito a imparare dal presente la showgirl e attrice giudice del programma prima della fine della quarta puntata ha parlato così ai ragazzi a noi adulti nel dare valore a ciò che abbiamo a voi ragazzi per pensare prima di dire una cosa distinto oggi ho 41 anni e quando mi guardo indietro vedo tutti gli errori che ho commesso però ho imparato anche tante cose il talento non è abbastanza perché prima dobbiamo mantenere viva la voglia di ascoltare ho imparato che chi sceglie di essere artista deve guardare il mondo in modo particolare onestà gratitudine e coerenza sono fondamentali scegliete chi volete essere sempre ma vi chiedo di essere persone prima che artisti e soprattutto non abbiate paura di essere vulnerabili perché una delle cose che un artista non può permettersi e lasciare gli altri indifferenti spero che vi portiate queste parole nel cuore ci tenevo a dirvelo siate forti siamo forti andrà tutto bene